Circe, figlia del dio Elio e della ninfa Perseide, è la famosa dea maga della mitologia greca. Tutti conoscono nell'odissea l'incontro fra Ulisse e Circe. La maga aveva trasformato in animali gli uomini dell'equipaggio di Ulisse, ma quest'ultimo, grazie al dio Hermes, era in possesso di un'erba che avrebbe impedito la sua trasformazione. Ulisse sguainò la spada per uccidere Circe, ma Ella lo supplicò di risparmiarle la vita, offrendogli la sua isola e il suo amore. Dopo che Ella ebbe liberato dall'incantesimo i compagni di Ulisse, visse per un anno al suo fianco, in una relazione amorosa. Ebbero anche dei figli, fra cui il famoso Telegono, colui che un giorno ucciderà senza saperlo proprio suo padre. Circe lasciò andare Ulisse e gli diede anche dei preziosissimi consigli. Questo suo gesto potrebbe apparire normale, ma in realtà si trattava di qualcosa di incredibile per una donna appassionale e vendicativa come lei, con una filosofia del tipo o sei mio oppure vedrai la mia vendetta. Questo denota che Ulisse aveva realmente conquistato il suo cuore. La famosa isola di Circe si chiamava Ea e viene identificata con l'attuale promontorio del Circeo, nel Lazio. Circe è anche famosa per essere stata colei che ha trasformato Scilla nel famoso mostro marino, poiché gelosa delle attenzioni che la riceveva da Glauco.